buongiorno a tutti ben svegliati eccoci di nuovo un'altra puntata di punk fast oggi frizzantina oggi si parla di grunge di di un mondo che riguarda gli anni 90 roba da anziani come noi siamo e quindi intanto introduco subito il primo anziano che è ovviamente cic che come da parecchi sabati ormai è diventato un ospite fisso diciamo lo possiamo ufficializzarti nella crio di pogo visto che è giusto che sia così ma il mondo deve sapere onorato ciao a tutti buona giornata buon sabato ciao cic fra poco arriverà anche franz che credo sia andato a farsi il caffè in giardino perché non lo vedo nell'inquadratura ma comunque non c'è problema e niente allora cic tu come hai vissuto gli anni 90 il periodo del grunge dai raccontami un po retroscena questa è una domanda infame delle 10 a trabocchetto oggi mi sono preparato bello carico non mi ricordo un cazzo che è più di una risposta direi esattamente ciao arthur tanti cuori non mi ricordo le ho vissuto in maniera abbastanza inconsapevole la nostra brigata è che giustamente si è sparato anche il countdown arthur finalmente ormai sei uno dei nostri anche tu arthur e niente dunque allora io gli anni 90 me li ricordo a sprazzi a tratti però me li ricordo molto divertenti vabbè a parte che quelle band lì di cui parleremo oggi me le sono praticamente viste tutte e molte le ho anche conosciute però diciamo che è stato un bel periodo no tu no tu non ti ricordi sì sì allora vabbè io calcolo che ho fatto dei superiori dal 90 al 95 e quelli si sa che sono anni bui confusi devastanti stupranti arricchenti e tutto un sacco di aggettivi a cazzo di cane musicalmente ovvio cioè musicalmente è quella roba lì di cui ci siamo riempiti il cuore e le orecchie personalmente non mi ricordo un cazzo perché tra vicissitudini illegali e cose strane non c'era proprio tantissima lucidità sicuramente non è un bel ricordo ovviamente come ogni bravo anziano ha della propria giovinezza addirittura addirittura attenzione che c'è dottor pepper che ci si collega direttamente dalla bici eccolo ragazzi questa roba di lui che si collega direttamente va in bici mi casa di bestia cioè poi col caschetto protettivo eh sì certo io sono un padre di famiglia devo stare attento e che posso fare lo sbarbato anche perché c'ho la barba tutto bene questa battuta veramente pesantissimo eh te lo dico di prima mattina cioè non puoi pretendere cioè ho finito ieri sera tardissimo con Carmelo Garaffo e Moz che abbiamo fatto una diretta per parlare dei suoi fumetti e sono ancora approvato quindi officine infernali officine infernali se d'altra è stata bellissima però ormai la gente il venerdì sera mi sboccia e quindi alla fine Arthur si è collegato che lo saluto si è collegato proprio gli ultimi dieci minuti quindi anche lui comunque è duro e puro ha seguito l'ultima partita diretta però è stata bella perché sta facendo uscire un sacco di roba e e onestamente è un artista molto valido che secondo me vale la pena seguire la mette su youtube cosa la metti su youtube perché io ieri sera non me l'ho potuto seguire sì 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 la carico appena arrivo a una fonte decente di connessione internet la carico ma come non riesci dalla bicicletta a caricarla ci ho provato ho provato ma non ho il cavo abbastanza lungo da portarmela a casa e quindi c'è un massimo 20 metri ho fatto solo 20 chilometri che c'è e beh e beh immagino immagino ciao rollo sì poi c'è ormai la cosa bella è che c'è cic che ormai è una superstar e arrivano a me non mi cacca nessuno vabbè mi fa faccio un po' l'offeso oggi so che oggi parlerete di grange anni 90 e volevo dirvi una cosa a me grange ha sempre fatto cagare così non so perché non è vero no no in realtà c'erano dei gruppi che mi piacevano ciao per me che mi piacciono ancora che ascolto volentieri però i tad cioè in realtà il mio top sono i tad poi tipo nirvana roba del genere ma non stufato in fretta quindi così insomma sun garden non ne parliamo io vado totalmente controcorrente a me la voce di crisi cornella sempre fatto schifo quindi sempre trovati irritanti tutti quanti quindi oggi faccio un po di bolemica così la gente inizia a insultarmi e voi avete materiale per fare la puntata ma noi la materiale per fare la puntata ne abbiamo tantissimo aspetta che franzo è tornato no non ancora perché in realtà l'ospite che stiamo dopo poco arriverà cioè è una luminare del grange cioè ha scritto libri cioè hai capito noi siamo qua a chattare come dei pirla prima mattina te in bicicletta col casco della seconda guerra mondiale e insomma queste cose così no lei c'è ha scritto dei libri cioè c'è roba che la cultura quella che noi non possiamo affrontare non so come dire se non leggendo la giustamente non seguire la puntata perché sono in galleria chiaramente quindi lavoro e però probabilmente sarebbe una puntata che mi farebbe riapprezzare un po il genere musicale quindi è una roba che mi interessa me la guarderò anch'io su youtube come fa ciccio con le nostre puntate beh spero che ciccio non si riguardi cioè io non mi sono mai riguardato in nessuna puntata se sei fuori se non te mi riguardi ma guardo la puntata di ieri sera di filler che non ho potuto seguire come diceva il buon funari la televisione è come la merda chi fa non la guarda santo subito citazione però spirito guida però mi sa che lui se la guardava questa sensazione sì insomma è giusto che riguardino cioè il loro lavoro ma noi non siamo professionisti noi improvvisiamo siamo dei cialtroni noi esatto cioè quando mai ce n'è fregato qualcosa è come se tu mi chiedessi se ho riascoltato i dischi che ho pubblicato con l'ammonia mai forse non li ho manco mai sentiti prima di pubblicarli figurati dopo beh io non riascorto i dischi in cui ho suonato eh zero però almeno li hai suonati eh sì è vero è vero va bene ragazzi allora io sono qua in vele pappiniano e niente poi vi saluto se riesco mi collego più tardi va bene dai ciao pepper dai cambio con ti dai cambio con il mitico franz che vedo finalmente in postazione bella kant e eccolo qua è arrivato anche franz perfetto ci siamo praticamente tutti c'è anche ciao ragazzi volevo solo dire innanzitutto k sono io che cioè se ti senti non cagato sono io che ti cago io sono qua solo per te solo per te e sarò qua sempre solo per te quando tu mi chiami io ci sono ci sono allora ragazzi io vi do questa questo questo scoop franz mercoledì doveva arrivare ma non è arrivato dovevo arrivare io ho scoperto questa cosa dopo perché ovviamente il giorno dopo ci ha potuto comunicare lui era in giro per bergamo con una bellissima giornalista svedese con tutti i crismi della giornalista svedese no quindi insomma ehm e creando molta invidia nella nostra chat interna ma la cosa non è questa la cosa per cui il vero la roba la notizia da non so come dire da gossip tv è che ha rimorchiato grazie a glenn stromberg no no rimorchiato magari no stromberg dalla svezia e chi non sapesse chi è glenn stromberg è il giocatore storico svedese l'atalanta degli anni d'oro che è famoso per essere biondo con i capelli lunghi e deve essere un mito oltre che fortissimo il nostro vero capitano il nostro unico grande capitano quello che giocatore che vi invidiavo tantissimo del attaccato rinista vi invidiavo tantissimo comparso tra l'altro in una locandina del punk rock ad uno per dire quanto ancora la sua icona è rimasta disegnata da pepper che ci ha appena salutato e che saluto e niente tu immaginati io che ero nel traffico a un certo punto ricevo una chiamata da un numero sconosciuto ciao sono glenn peter stromberg che sa cazzo stai dicendo dopo un po capito che era veramente lui mi fondamentalmente chiedeva un aiuto perché c'è questa televisione uno dei primi canali svedesi che voleva fare una voleva fare un servizio sull'italia su bergamo noi relazione al calcio in relazione a quello che è successo la pandemia e sorprendentemente alla fine chiamano sempre me perché non riescono a trovare persone che sa parlare in inglese o che riesce a fare traduttore quindi diciamo che innanzitutto ho detto sì capitano tutto quello che vuole capitano certo capitano no è stata una bella giornata solo che alla fine ci siamo è dura cioè dalle otto di mattina alle undici di sera in giro con questa troupe e volevo parlare tanto con nando dei senza benza volevo annunciare il live del punk rock ad uno dei senza benza volevo fargli tante domande storiche quant'altro e non ci sono riuscito quindi mi spiace mi spiace vabbè il live al war straduno l'ho annunciato io te lo dico hai fatto bene perché comunque il patto era quello che se non arrivava in tempo lo facevo io e fra l'altro la gente era super gasata in chat quindi bella lì e ricordiamo che war straduno si farà a luglio alle donne quindi non c'è il punk rock ma c'è il war straduno ever second war straduno no non è il war straduno ever perché è il peggiore di sempre l'anno scorso questo è il secondo peggiore ok un po' meno peggiore mettiamo le parole dove devono stare e poi volevo dire anche un'altra cosa è comunque non è un ospite ormai è uno di noi nel senso no no l'ho annunciato ufficialmente dentro la crew di pogo guarda è più di noi è più di noi eh sì sì una cosa internaz fra me e arthur lui dice che non ricordate teresa orlovski io me la ricordo molto bene arthur e non credere ma sono non sono così giovane da non sapere chi è va bene allora adesso dopo aver parlato di queste cose è ora giustamente il momento di presentare il nostro ospite aspetta un attimo te lo presento io però te lo presento io perché non ho mai chiesto come ho vissuto gli anni 90 io eh no no è vero è facile chiederlo a voi che li avete vissuti come li ho vissuti io ragazzino bambino che non potevo uscire di casa io li ho vissuti tra un uno un video notturno su mtv dei nirvana dei green day ad aspettare il gruppo che volevo e tra i mitici programma che c'erano una volta tra tele più quelli o vecchio bianco e nero tra video music eh tra tutte le reti locali di quando passavano le band locali o le band italiane che suonavano dal vivo e diciamo che questa cosa la uniamo oggi perché abbiamo sia una persona che è molto esperta di quei quei video che passavano di notte negli anni 90 sia anche di quei programmi che in italia nelle reti minori ospitavano reti minori per modo di dire ospitavano musica ecco t'ho lanciato t'hai visto che connessione t'ho fatto di questa cosa guarda io 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 prendo e me ne vado ah no devo fare la regia se no se no non possiamo più cambiare telecamera quindi eh accogliamo finalmente su punk fast valeria sgarella che ci racconterà di gli anni 90 tutto ci devi raccontare ciao valeria buongiorno a tutti sono onoratissima di essere con voi e soprattutto sono molto onorata di essere un'esperta di video anni 90 video notturni anni 90 che detta così insomma potrebbe anche generare generare delle altre delle altre sfumature no davvero sono contentissima di di essere qui grazie per avermi invitato siete delle teste di serie e quindi davvero sono molto onorata anche di qualcos'altro più teste d'altro esatto secondo me penso onestamente che non siamo mai state stesse di serie per nessun ambito cioè nel senso nessuno di noi non so ci bene ma non credo che siamo stati al top in niente però sì ti ringrazio no 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 io sono il re della mediocrità qui giochiamo sul pesante dal tuo microfono non si direbbe a dire il vero però comunque però me l'ha regalato se lo dici tu se lo dici tu ah vabbè allora 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 valeria dunque tu hai scritto numerosi libri sugli anni 90 e va bene e poi ne parleremo ma visto che franz ha subito fatto il gancio hai anche partecipato attivamente alla televisione degli anni 90 con la presenta eri una delle presentatrici de il muro che andava in onda su ad on tv di cui abbiamo parlato in qualche puntata fa in chat con i ragazzi e noi perché io ovviamente con te ho risuscitato delle vhs di cose fatte perché il muro aveva una era una figata cioè permetteva alle band italiane di come dire di di suonare dal vivo essere intervistate band spesso underground indipendenti e non il mainstream che all'epoca che adesso magari sono diventate mainstream ma i tempi come ricordiamo non lo erano assolutamente no no infatti infatti poi questa cosa in pre nella preparazione della puntata lo dico per gli amici della chat che ci segue ha fatto saltare fuori un'altra cosa che franz ha registrato un sacco di quelle puntate e quindi avremo un nuovo materiale da buttare sul sul muro e quindi ragazzi che ne so cioè le coincidenze non succedono mai per sbaglio valeria è preoccupata e onestamente anch'io sono preoccupato nel senso che registro cioè ovviamente come vi dicevo prima non potevo uscire di casa ero esiliato a sarnico non potevo andare ai concerti l'unica cosa che mi era concessa andare ogni tanto prendere il treno il sabato ad andare da zabrischi da cataruzza prendere i dischi e guardare voi grandi dal basso verso l'alto no c'è capo c'è anche quest'altro e registravo però sì ero cioè c'è da dire una cosa e chi ha vissuto quegli anni della mia età lo sa quei programmi quel quei pochi minuti ok quelle raggio di luce che ci davano quel video passato di notte o quell'ospite in televisione cioè per noi erano cioè veramente io avrò rivisto live degli impossibili e com'è tipo 150 milioni di volte ok perché non potevi guardare su youtube niente sulle fanzine certo dovevi recuperarle una volta ogni due o tre mesi no quindi la televisione soprattutto quelle reti odio un tv così non erano solo importante perché ti aprivano il mondo verso non so gli anime giapponesi di un certo tipo o delle trasmissioni come USA Today che parlavano di videogiochi quant'altro cioè ti aprivano il mondo anche della musica e adesso sembra che bello hanno ospitato quell'altro ma per noi è stato veramente molto importante quindi ringrazio ma infatti franzo io mi sto rendendo conto cioè mi sono resa conto proprio grazie a questa operazione che in realtà sembrava una cosa quasi fatta per gioco cioè io e k non avevamo una minchia da fare diciamocelo in questo passato anno abbiamo detto ma perché non riesumare alcuni filmati alcuni WHS io avevo ancora mi ero accorta di avere pulendo un box cioè proprio mettendo riordinando un box mi ero accorta di avere un sacco di puntate registrate del muro e onestamente non me le ricordavo non me le ricordavo neanche io allora ho detto questo è un patrimonio pazzesco cioè qua è passata almeno la metà se non tutta la scena indipendente di metà anni 90 italiana che era davvero una forza della natura cioè tante di quelle band quando sono venute da noi ancora alcuni di loro manco avevano un contratto cioè quindi voglio dire mi sono resa conto a posteriori di quanta gente in realtà guardasse quel programma io pensavo oggettivamente che lo guardassimo in tre anche perché odeon tv faceva parte di una syndication di canali locali che voglio dire non era telepiù cioè con me su telepiù aveva un altro bacino di intensa invece odeon tv tutto sommato comunque era una tv regionale che faceva parte di un circuito però davvero io sono stata sorpresa di in realtà di quanto seguito avesse avuto e di quello che ha rappresentato per tante persone quel programma oltre al fatto allo shock di vedere me stessa 25 anni fa vabbè insomma un misto di orrore e delizia che però insomma cioè mi ha fatto capire che fortuna ho avuto a incrociare tutti quei gruppi tirando giù i programmi e tutto il resto a parte la lì verdena bambini che pre contratto con con qualunque cosa che se erano una cosa di cioè credo che luca avesse 13 14 anni una roba del genere e pestava come un dannato cioè nel senso uguale adesso la tenerezza proprio la tenerezza mista furia no erano proprio dei bambini cioè lui era un dico e fra l'altro cioè c'erano anche delle chicche perché poi tipo gli after con cristina donà insieme e ma la cosa che a me aveva colpito è che avevamo io la dico tanto che cazzo me ne frega poi al limite mi mandraffa ancora quando mi vede c'era Nila Cruz che è un gruppo che che io conosco molto bene sia perché Joe era uno dei commessi di Steve di Zabrisky diciamo la verità che forse non si sa bene no però poi negli anni lavoravano tanto al Jungle Sound quindi mi è capitato di registrare cose loro demo cose insomma ci ho avuto tanto a che fare e quando li ho visti erano vecchi esattamente come adesso cioè nel senso che ai tempi mi sembravano vecchi in realtà poi erano miei coetanei ma l'ho realizzato solo adesso perché sennò adesso probabilmente se fossero stati così vecchi avrebbero avuto 90 anni e questa cosa qua ecco Joe era vecchio rimasto vecchio e si aveva lo stesso carattere da vecchio anche 25 anni fa e quando gli ho detto guarda Joe abbiamo recuperato queste cose qua mi ha risposto tipo ah bravo punto non volevo entusiasmo non volevo tipo magari le vuoi condividere così no no invece tanta gente io li seguo quei video su youtube che caricate o che tanta gente carica è invasata e cioè mi ricordo perfettamente che c'è una diatriba sul fatto che i crammi staff forse avevano fatto due esibizioni al muro ma se ne trova solo una e aveva fatto dei pezzi diversi o qualcuno li aveva caricati cioè la gente si ricorda molto bene in quegli anni ma poi stiamo parlando di televisioni che io ho studiato appunto storia della televisione sono state importantissime sotto vari aspetti culturali cioè odeon ad esempio ha lanciato il primo dragon ball ha fatto vedere i cavalieri dello zodiaco per prima insieme a telecity cioè per me per la mia formazione penso che odeon sia tipo qui e l'università sia tipo qui ma credo che per la formazione di tanti adolescenti in quel periodo è la televisione lì dimmi valeria ti abbiamo perso l'audio non ce l'abbiamo più non ce l'abbiamo più mi sa che si è sganciato qualche pulsante qualcosina non vorrei che la nostra regia non è come quella di odio un po' tutto grazie rollo che manda i cheers sei stato carinissimo non non ti sentiamo vale allora chiediamo al nostro tecnico di riparare questo questo ti tiro un attimo giù e vediamo un secondo se riesco adesso che sei andato diciamo che valeria era bellissima al tempo di odio ed è bellissima ancora adesso cioè oltre che bravissima vuoto con noi cioè ecco adesso non lo dico più che vale prova attaccare staccare il microfono perché non te se sente intanto colgo l'occasione per dire quella cosa per cui k mi paga sentite mi sentite no volevo dire una cosa scusate franza il tuo iban poi me lo dai in privato ok per il buonico ho la mia mail ok andate avanti allora dunque fra l'altro vedo 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 che è arrivato così creiamo il vero caos che piace tanto a franz anche dan e quindi buttiamo dentro anche dan dentro la ciao ragazzi ciao valeria come stai ciao ciao dan anch'io picchiato nel muro brutalmente in quegli anni io tra l'altro iniziavo a scrivere proprio nella metà degli anni 90 quindi figurati tutta quella scena lì era bellissimo vederla in televisione grande audio tv veramente tra l'altro volevo aggiungere una cosa giusto per rivangare ulteriormente quel periodo cioè molte band venivano al muro perché si erano accorte che la qualità dei live era altissima rispetto alla media e infatti cioè i nostri tecnici quelli che lavoravano proprio al suono dei live erano dei professionisti straordinari e all'inizio era abbastanza fa cioè era difficile reclutare era difficile convincerli almeno alcuni di loro no che erano un po insomma un po stiff no come si suol dire a venire in un programma di musica dal vivo in una rete locale quando ha cominciato a spargersi la voce che comunque i suoni erano fatti bene che comunque i live erano di una certa qualità e anche la regia la regia televisiva dei live era qualcosa che in quel periodo non si vedeva in giro e questo ha contribuito tantissimo secondo me a rendere quel programma unico a parte i conduttori che vabbè forse erano un'ultima cosa diciamo di una certa rilevanza del programma però ecco insomma questa era la cosa che volevo stessi lineare ma fra l'altro sì è vero che la regia e l'audio erano pazzeschi anche rispetto a programmi successivi perché la qualità secondo me era superiore anche a quella di MTV negli anni successivi lo posso dire perché c'ero e l'ho fatta in entrambi i casi e quindi a parte che basta semplicemente cercare online e li trovi i canali di supersonic o cose di questo genere ma poi anche la regia ma secondo me era tutto bello anche ma anche le scelte editoriali di chiamare certi artisti piuttosto che altri secondo me per l'epoca erano clamorose perché c'è è vero che in quelle vhs abbiamo trovato anche band che si sono sciolte non esistono più e che magari moltissimi non hanno sentito ai tempi però ci troviamo c'è l'after e la cruise per dirne due ma ho un sacco di domande sul dietro le quinte non vorrei sviare troppo ma ho un sacco di domande sul dietro le quinte e te ne faccio solo due innanzitutto avete citato la regia e guardare i video dell'epoca ti fa proprio vedere gli anni 90 perché c'erano tutte quelle sperimentazioni delle camere che giravano si avvicinavano si allontanavano cioè proprio per fare un salto negli anni 90 e capire gli anni 90 cioè proprio quella regia velocissima cosa che trovi solo negli anni 90 e che non trovi più ma soprattutto la cosa che mi sono sempre chiesto è il bello di quelle esibizioni live è che c'era sempre il pubblico e il pubblico di solito non era seduto adesso mi ricordo forse al muro era in piedi come se fosse in un live club e quindi mi sono sempre chiesto ogni tanto vedevi la gente che pogava una roba del genere cioè gli davate da bere oppure gli incitavate direi mi raccomando ragazzi adesso suonano purtroppo era vietato somministrare al college pubblico però no in realtà il pubblico era come posso dire magari a volte anche un po' forzatamente portato a partecipare cioè gli veniva proprio detto che durante i live doveva muoversi qualcuno faceva più fatica altri facevano meno fatica però alla fine comunque veniva fuori come una cosa abbastanza genuina ma era la scenografia in qualche modo a trarre in inganno perché in realtà il muro era nato come un programma che voleva essere ambientato per strada c'era la strada l'ambientazione del muro alla fine era venuto fuori un po' come un club oscuro come un centro sociale cioè sembrava più un centro sociale che una strada vera e propria cioè sembrava più di essere che ne so al tunnel per dire però la resa era uguale pubblico era bene o male sempre lo stesso se ricordo bene cioè non variava tantissimo di puntata in puntata cioè c'erano 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 quello duro e poi c'erano quelli che giravano male posso farti una domanda magari tu non lo sai perché poi non era il tuo ruolo ma il pubblico lo pagavate per essere lì? no perché c'è questa leggenda metropolitana che io mi sono sempre chiesto poi nessuno me l'ha mai confermato che in Mediaset il pubblico dei programmi televisivi veniva pagato cioè tipo che gli davano magari gli davano dei doni tipo non lo escluderei no no non lo escluderei ma è una pratica è una pratica anche abbastanza diffusa è quella di pagare il pubblico cioè direi che più diffusa ho trovato un lavoro da fare e non lo sapevo non credo sai K che comunque il pubblico viene pagato viene pagato solo se ha un ruolo partecipativo importante nel senso se c'è un figurante che poi deve dire qualcosa o deve fare una cosa particolare sì però viene oggigiorno viene usato tantissimo per quanto riguarda quelle agenzie che cercano di lanciare delle stelle o delle persone gli promettono delle partecipazioni e li piazzano come pubblico però è più un favore che la televisione fa all'agenzia e viceversa rispetto a paghiamo un pubblico per essere lì cioè venivano pagati gli ospiti fissi venivano pagati per esempio ma non in tutte le televisioni da noi eh da noi no no da noi gli ospiti fissi venivano pagati erano come cioè perché comunque gli davi un ruolo una responsabilità in qualche modo e anche un impegno fisso no in prima cioè nel senso in prima linea però solo loro ecco e i conduttori cioè vabbè la chat però invece dice che eh marion dice anche ora vengono pagati dieci euro me ne hanno dati quaranta lordi per guess my age che non so cosa sia ma in questo caso qui però non non è pubblico nel senso sei attivo nel senso che lei è stata protagonista esatto cioè lei è stata cavia per il modo di dire di questo programma che si chiama guess my age dove c'era lei e la gente doveva indovinare la sua età mi sembra di ricordare marion cioè quindi non sei proprio pubblico che sta seduto a guardare applaudire no quelli non vengono pagati esatto ha un ruolo si è un ruolo attivo si si e vabbè però se applaudi quando ti dicono di applaudire è un ruolo attivo secondo me stai cercando di creati una carriera come pubblico cioè questo qua ce lo stai chiedendo ma infatti nella maggior parte dei casi il pubblico in studio viene pagato specialmente nelle grandi nelle grandi reti che ragazzi c'era marion conferma che danno 10 euro al pubblico e ai protagonisti andiamo tutti andiamo tutti momento in cui notoriamente c'è pubblico in sala no è giustamente sembra una buona idea valeria ma con con le band poi c'era ovviamente la la fila la richiesta per partecipare al muro c'era chi cerca di scavalcare sgomitava no beh non a quel punto lì etichette che rompevano le scatole probabilmente per piazzare i loro artisti perché ovviamente funzionava era una vetrina non indifferente in quegli anni ma in realtà non c'era neanche bisogno di rompere le scatole perché noi a parte che avevamo un ufficio preposto proprio alla selezione delle band una che poi erano due persone alla fine e uno di loro era proprio molto attivo nel circuito indipendente cioè andava a vedersi le band andava proprio a cioè masticava musica indipendente dalla mattina alla sera quindi bene o male all'inizio della produzione lui sapeva già quali erano le band che avrebbero partecipato no che comunque avrebbe voluto tentare di chiamare cioè per esempio lui era invasatissimo con il volfango io me lo ricordo ancora cioè lui dall'inizio del programma aveva già deciso che il volfango dovevano assolutamente venire al muro come del resto dovevano esserci verdena come del resto dovevano esserci crami staff come ad esempio dovevano esserci con che cosa era impallinato cesare aspetta fammi ricordare era impallinatissimo con tutta una serie di no quello ero io quello ero io raccontiamo la gag perché cioè a un certo punto mettiamo una vhs perché noi vhs non c'era scritto chi c'era no quindi noi scoprivamo gli artisti mettendole su e parte sto gruppo che io guardo e dico madonna ma che cagata di lei ma no sono gli estasia il mio come ti permette come ti permette io credevo che mi stesse perculando perché era talmente invece no era veramente invasata ci è rimasta malissimo allora la sfida è stata che a un certo punto li ho caricati per per dimostrarle che nessuno conosceva gli estasia e ho purtroppo perso perché hanno più visualizzazioni dei lacussi no però bisogna anche ricordare diciamo a grandi linee genere degli estasia che erano una una band diciamo di pop onirico diciamo con varie inclinazioni dell'est insomma indiane piuttosto che orientali insomma con questa cantante molto particolare molto romina salvadori romina salvadori che era aveva a parte avere una voce straordinaria una personalità devastante questa ragazza cioè effettivamente non era un genere molto abbordabile e era un genere che contrastava un po con il resto della della programmazione del muro perché era più orientato verso il rock comunque no verso rock indipendente loro non c'entravano una mazza con tutto questo e mi ricordo che la mia produttrice che era una la chi si chiamava vabbè mi verrà in mente una personaggia fantastica mi faceva tipo il lavaggio del cervello prima di ogni di ogni puntata no mi faceva il brief sulla band nel caso non la conoscessi mi riempiva di di menate e mi diceva mi raccomando valeria questi sono cattivissimi c'è sempre me lo diceva sempre valeria mi raccomando cioè questi sono cattivissimi cioè guarda che quando c'erano gli after ci ha cominciato un mese prima a dirmi guarda che manuel attenzione perché ti fa un culo così c'è il terrorismo psicologico e quando vennero di estasia mi disse valeria attenzione perché romina è una personaggio molto particolare deve essere trattata con i guanti e io poi la incontrai effettivamente una persona magnifica e la band era magnifica però ero convinta che ce la ricordassimo in tre no esatto perché non era tanto faceva parte della stessa scuderia degli after se non ricordo male erano del consorzio erano del consorzio del consorzio esattamente era del consorzio e niente però aveva un genere cioè capisco perché cappa che comunque abituato ad altre sonorità cioè si è rimasto un attimo spiazzato da questo un po capito molto su altre corde era sicuramente non era roba mia e la roba che in quegli anni lì si è la cosa più distante da da me però ero rimasto spiazzato perché c'è nel senso mi sembrava una roba obsoleta già per i tempi non so forse invece erano troppo avanti la storia mi dà torto perché anche arthur e tutti della chat li conoscono quindi mea culpa andrò a comprare in un mercatino il vinile semmai lo troverò degli estasia e farò un ascolto forzato come l'intera discografia di springsteen che ho fatto belli improbabili ce n'erano belli improbabili ce n'erano non è che erano tutti bravi cioè c'erano anche c'erano anche personaggi che insomma si capisce che poi magari non abbiano avuto una carriera folgorante ma erano veramente la minoranza e beh d'altra parte tutto un po tutto il cast che avete trasmesso sul muro erano indipendenti o piccoli quindi cioè gli stessi verdena non erano ancora i verdena nel senso era era anche il luvertigo e mi piace ricordarlo in tutto questo c'erano anche il luvertigo che però quegli anni li erano già affermati credo un pochino sì e beh sì sicuramente erano più si erano più noti di altri senz'altro quali erano i vostri concorrenti quali erano i vostri concorrenti come programma perché ce n'erano due o tre che facevano questo tipo di inserimento di 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 gruppi dentro dei programmi concorrente diretto nel senso che era un format molto simile era come come di che c'era fabio caressa il conduttore era il fabio caressa adesso diventato famosissimo per il conduttore di quel programma assolutamente sì sì allora se la menava in una maniera senza senso ma non erano due conduttori non c'era un c'è lui allora c'erano c'erano tre diverse persone uno che assomiglia caparezza che non ho mai capito chi è ed era abbastanza simpatico che è quello poi c'era una ragazza bionda coi capelli corti poi c'era un altro che è quello che ha intervistato gli impossibili di cui l'intervista me la ricordo a memoria perché gli impossibili in quell'epoca avevano vinto tutto come anche in televisione e poi c'era fabio caressa che non intervistava i gruppi ma conduceva tutto il programma esatto e meno male che non intervistava i gruppi cioè mi viene da dire antipaticissimo se la menava in modo atroce atroce io mi ricordo di caressa quando siamo andati cicci certo come lo ricordo allora ragazzi sto invecchiando non mi ricordo più cazzo ti sento male scusami mi senti male meglio meglio se mi senti male scusami non fare così vabbè non so sarà forse il microfono troppo vicino vabbè allora dunque valeria parliamo anche di cose più recenti parlavamo con franz settimana scorsa è uscito l'argomento Sub Pop, di cui tu hai fatto addirittura un libro intero sull'etichetta, perché eccolo lì, la versione, aspetta che ti metto in primo piano così si vede e almeno, eccoti qua copia mia, non toccare ottimo poco prima della pandemia noi ce l'avamo sentiti proprio perché dovevi portare Bruce della Sub Pop in Italia doveva fare un DJ set un'intervista e tu dovevi presentare il libro eccetera 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 esattamente allora, innanzitutto io l'avevo accennata, tu me l'hai smentita in chat privata e io sono rimasto ancora peggio mi confermi che Bruce non ha comprato un'isola con i soldi della Sub Pop no, allora bisogna prima contestualizzare tutto questo discorso perché buttato lì così la risposta è no, non si è comprato un'isola cioè non si è comprato proprio un'isola si è comprato un terreno cioè su un'isola tra l'altro bellissima che fa parte dell'arcipelago diciamo del del Puget Sound nel nord ovest pacifico non lontano da Seattle e però dicendo questo bisognerebbe anche raccontare un po' quella saga lì cioè nel senso che cosa è successo con la Sub Pop quando in Irvana hanno deciso di di lasciare la Sub Pop per indirizzarsi verso la David Geffen Company no? cioè sei sicuro di voler cominciare da qui? perché è una materia un po' spiega ragazzi siamo tutti in accordo partiamo subito con la bomba di Nirvana io direi di sì perché se no di che stiamo parlando sì allora dobbiamo ti dico in maniera più generica poi tu andrai a fondo che a un certo punto diciamo la verità cioè Carcobain voleva diventare famoso no cioè sembra quasi che lui abbia odiato ma l'ha odiato dopo che è diventato famoso perché ha scoperto che cosa voleva dire essere famosi eh beh insomma sì allora qua io ho speso cioè perché io fondamentalmente ho scritto dei libri sulla scena del grunge non tanto perché sono una nostalgica o perché voglio tirare in ballo diciamo un genere che poi vabbè sul fatto che sia un genere o meno bisognerebbe parlarne eh a livello nostalgico ma perché voglio in qualche modo rivalutarlo e raccontare cosa significa oggi no quel movimento e per sfatare una leggenda che si consuma da anni e cioè che Carcobain era un depresso eh maniaco compulsivo mh triste incapace di prendere decisioni e fondamentalmente succube di una serie di persone tra cui suo amore non è vero niente nel senso chi conosce anche solo un minimo la storia di Cobain sa che non è così cioè Kurt era una persona molto determinata era un artista a 360 gradi eh manager di se stesso ottimo manager di se stesso che aveva l'ultima parola su ogni decisione quindi questa diciamo è la base da cui partire per conoscere i Nirvana secondo me eh il fatto che poi fosse fondamentalmente un tossicodipendente e che abbia incontrato sulla sua strada una serie di persone che sicuramente hanno tentato di capitalizzare sulla fortuna della band come è successo per tutti gli altri fondamentalmente come è successo per Cornell per i Soundgarden cioè vedete adesso cosa sta succedendo con i Soundgarden cioè l'inferno no? sull'eredità dei Soundgarden l'eredità di Cornell l'inferno ok? quindi questa cosa purtroppo succede sempre e comunque quando viene a mancare qualcuno e dietro c'è un impero e nel caso di Cobain il fatto che lui fosse capace di gestire se stesso si manifesta perfettamente nel fatto che fosse stato lui a decidere che non voleva più stare con la Sappop ma perché? per quale motivo? perché la Sappop non aveva neanche i soldi per piangere non aveva neanche i soldi in quel periodo per pagare le bollette del telefono e io questa cosa la so bene perché ho parlato con tutti loro e tutti loro concordano su una cosa che era proprio questa prima di Nevermind ma anche dopo Nevermind la Sappop era una casa discografica con pochissimi mezzi che ha dovuto lasciare a casa un sacco di persone ha dovuto ridimensionare le sue aspettative non c'erano neanche i soldi per mandare le band in tour cioè non so come dire quindi quando è uscito Bleach cioè Bleach non ha avuto la promozione che meritava già partiva comunque in un circuito molto indipendente partiva dalle college radio partiva da tutta una serie di modalità molto poco rilevanti quindi Corcobain a un certo punto semplicemente ha detto ma io sono stanco però di vedere questo disco trattato male sono stanco di non avere la promozione che merito e quindi era ovvio che a un certo punto così come tante altre band in quel periodo volesse giocarsi la carta della Major e siccome i Sonic Youth erano con la Geffen anche lui voleva andare con la Geffen è molto semplice perché in realtà di offerte ce n'erano state tante poi le modalità non sono state ortodosse perché fondamentalmente non dimentichiamoci mai che i Nirvana registrarono il demo di quello che sarebbe stato Nevermind per la Sap Pop e non uscì mai per la Sap Pop quindi Kurt anche qua cioè quanto era tagliato quel ragazzo prese il demo e cominciò a fare shopping cioè cominciò a farlo girare cosicché le case discografiche cominciarono ad avanzare delle offerte e così fu questa è una storia molto comune comunque dell'epoca perché è esattamente la stessa storia dei Green Day con la Lookout ad andare poi sulla Reprise come i Madone esattamente come i Madone i Madone a un certo punto anche loro decisero di lasciare la Sap Pop di andare con la Reprise e poi tornarono in Sap Pop gli Afghan Whigs a un certo punto per lo stesso motivo mollarono la Sap Pop per tornare poi anni dopo cioè questa è la cosa se vogliamo bella da raccontare è che vero o male tutte le band che hanno lasciato poi sono tornate no? Ovviamente quando c'erano anche più mezzi per fare un minimo di promozione perché è ovvio che poi la Sap Pop si sia arricchita ma non così come credete cioè nel senso ci sarebbe molto da raccontare guarda proprio nella promozione di quel libro Punk USA Sap Pop USA il fondatore parlava proprio del fatto che appunto viveva su quest'isola e che aveva venduto tutti i suoi dischi cioè tutta la sua collezione di dischi se ne teneva solo una piccola quantità e l'intervistatore diceva ma come non hai neanche quella copia di Nirvana quella copia lui diceva no no io ho pochissima roba ho la mia cabina sono tranquillo effettivamente anche io ero stupito però a me piaceva vivere nel racconto di Kappa che aveva comprato l'isola quindi ho detto magari ha venduto i dischi per comprarsi l'isola allora te lo dico io com'è andata io ho intervistato Pavit proprio su quell'isola cioè ho rischiato la mia vita cioè ho messo il mio corpo diciamo a disposizione della storia della musica prendendo un fottutissimo idrovolante che parte da Seattle e che in 25 minuti dovrebbe arrivare sull'isola di Orca invece ce ne ha messi 50 perché fa delle tappe che è come un treno alla fine si ferma cioè tu non sai dove si ferma cioè decolli e poi atterri e non sai quante volte succederà e se arriverai viva perché è un idrovolante capito vecchio stile con la gente che sgranna il rosario durante il viaggio quindi tu già ti poni in una certa ma è un'esperienza bellissima e sono atterrata all'eliporto e c'era lui ad aspettarmi e io ero in ritardo di 40 minuti e Bruce non è una persona facile e allora io sono atterrata con il terrore di non vederlo che l'intervista fondamentalmente saltasse oppure che lui mi insultasse prendendomi a sberle dicendo ah la solita giornalista italiana non puntuale eccetera e invece fu un incontro meraviglioso perché lui fondamentalmente mi fece fare tipo il giro dell'isola in macchina lo intervistavo in macchina mentre guidava poi ha voluto fare una pausa poi siamo andati a mangiare al parco abbiamo chiacchierato al parco poi voleva andare a prendersi qualcosa da bere siamo andati al bar abbiamo preso qualcosa da bere e io ho continuato a intervistarlo in tutta questa in questa sequenza di sue abitudini no? e ho notato però che non non è che mi ha detto andiamo a casa mia che ti faccio vedere casa mia per quale motivo? perché in questa casa lui fondamentalmente adesso non ci abita lui ha comprato questo terreno ha costruito questa casa tra l'altro una casa che poi è andata anche sulle riviste di bioarchitettura perché segue determinati crismi appunto di bioarchitettura proprio prima del tempo cioè lui faceva le cose prima del tempo in tutto ok? e adesso l'ha fitta questa casa per quanto ne so ma cioè voglio dire sicuramente c'è un'intervista meravigliosa con Eddie Vedder e Jeff Heyment del Pergem con l'intervistatrice che chiede ma il garangi di sé ancora? cioè Eddie Vedder si mette a ridere e Jeff Heyment dice va sicuramente Bruce Pavit per Bruce Pavit continua a esistere nel senso lui sicuramente ancora ma in realtà non è proprio così in realtà tra i due e quello che ancora diciamo magari ci capitalizza un po' è Jonathan Poneman che ancora è il presidente della SAPOP che ha messo anche delle sue finanze proprio cioè nel senso è stato lui a investirci di persone nella SAPOP per tanto tempo e ovviamente adesso la SAPOP facendo parte di un circuito un po' più ampio cioè essendo alcune produzioni distribuite dalla Warner ovvio che non è più quella del 91 mi sembra logico ma ecco insomma poi magari parliamo anche di come insomma dell'accordo che c'è stato quando i Nirvana sono passati alla Geffen cioè che ha garantito sicuramente alla SAPOP di vivere per sempre un po' di rendita ma ci sono anche tante spese lo scordiamo lo sapete voi avete delle etichette quindi in realtà quell'accordo lì è stato comunque un gioco d'azzardo anche per la SAPOP perché nessuno sapeva cosa sarebbe successo dopo però probabilmente io l'ho sempre pensata così che a fronte del fatto che avrebbe perso comunque la band ha cercato di tenerci un piede dentro in qualche modo in qualche modo tu lo sai molto più precisamente e quel qualche modo comunque era un giro di roulette russa che è andato sul rosso e lui aveva puntato sul rosso mettendo un all-in perché in realtà la SAPOP era come dicevi giustamente tu con le pezzi al culo e non avrebbe neanche potuto competere con una struttura come la Geffen ma con una qualunque delle no ma in realtà cioè tutto fu merito di un contratto cioè di una cosa posso dire di un documento che fu stilato quando i Nirvana decisero di andare alla Geffen redatto da Jonathan Poneman che tra i due era sicuramente quello più sgamato dal punto di vista imprenditoriale lui fondamentalmente decise che se la SAPOP doveva perdere la sua testa di serie cioè quell'allontanamento doveva valere a loro una percentuale da lì all'eternità ma questa eternità non si sapeva esattamente come quantificarla perché non si sapeva né quanti album avrebbero pubblicato in Nirvana né che successo avrebbero avuto cioè si sapeva che c'era un capannello di persone influenti che stava scommettendo su di loro tantissimo ma come cioè scommettevano sui Sonic Youth cioè 50 cioè capito le stesse copie che vedevano i Sonic Youth ma i più si pensava a un successo del genere beh quello sicuramente però quindi quando poi si duplicarono cioè già era una sorpresa per loro capito ma io se devo essere sincero io non ho un ricordo dei Nirvana come il gruppo più che funzionava di più in sub-pop ai tempi pre ovviamente Nevermind nel senso che io mi ricordo più Madonei o nomi di quel genere lì dei Nirvana per quanto poi a me piacessero moltissimo con Blitz e tutto il resto però no no ma sicuramente no le teste di serie cioè fino al 91 cioè fino alla fine del 91 barra 92 erano sicuramente i Madonei i Madonei erano quelli che venivano anche esportati all'estero cioè quando la Sapop organizzò questo festival che si chiamava Lame Fest che comprendeva nel Bill Nirvana Tad e Madonei cioè i Madonei erano quelli che sui cartelloni venivano scritti con i caratteri più grandi perché erano loro quelli famosi no? ed erano quelli con cui la Sapop ha cominciato a esportare il Seattle Sound nel Regno Unito per poi pensa alla furbizia per poi portarlo negli Stati Uniti perché in quel periodo se la stampa inglese parlava bene di te eri fatto cioè nel senso c'è riposto se la stampa inglese ti recensiva in un certo modo poi anche nel territorio nazionale potevi avere una rilevanza notevole pensa quanta fiducia in se stessi avevano tra l'altro questa cosa qua Valeria è la stessa cosa che venne fatta con Jimi Hendrix che era pure lui di Seattle oltretutto cioè per lanciarlo lo mandarono in Inghilterra e a fare quello che lì c'era un altro problema nel senso che purtroppo Jimi Hendrix dovette andare in Inghilterra perché aveva dei problemi diciamo dei problemi con la legge che non gli permettevano di stare a chiare Correggimi se sbaglio Correggimi se sbaglio perché approfondiamo questa storia perché secondo me spiega molto del fenomeno Sap Pop e di come è stata costruita e imbellettata un po' da un certo punto di vista questa scena locale che sicuramente era fervida cioè loro se non mi ricordo male avevano speso proprio soldi che non avevano o hanno investito tutti i loro soldi come Sap Pop per far volare questo famoso giornalista inglese e costruirgli e costruirgli queste serate del Seattle Sound per dire mi raccomando con certo sold out di qua dobbiamo far venire tanta gente dobbiamo far vedere che qui c'è qualcosa perché l'unico modo è fare scrivere di là perché in America i giornalisti americani trattavano le scene locali come delle scene come succede spesso in Italia no? come dire ah ma voi non siete fighi come quegli altri quindi loro anche come strutturavano sapò perché mi ricordo di aver letto questo libro dove diceva i fondatori dicevano noi andavamo a prendere un band per ogni città e zona americana perché volevamo andare poi a distribuire in quella città quindi sembrava una cosa poco organizzata ma era veramente un modello di business a livello do it yourself molto intelligente dicevano noi non possiamo noi andiamo a prendere una band l'Illinois perché non abbiamo distribuzione all'Illinois non siamo famosi da andiamo a prendere una band lì così parlano cioè erano molto intelligenti non erano solo fortunati ma guarda che questo no no ma questo è tutto frutto della mente di Bruce Pavit che comunque prima di fondare l'etichetta c'è la sa pop è cominciata come forse sapete prima di essere un'etichetta cominciata una fanzina è cominciata come una serie di compilation su cassetta e su vinile perché Bruce Pavit che prima di essere a Seattle era a Olimpia che è la capitale dello stato di Washington cioè Olimpia prima di Seattle era la capitale della musica indipendente americana e Chaos FM la radio dell'Evergreen State College dove lui lavorava era la radio indipendente con l'archivio più grande di musica indipendente di tutti gli Stati Uniti quindi lui praticamente recensiva le demo cioè i demo che arrivavano da tutti gli Stati Uniti e lui aveva proprio questa mentalità e questo ho cercato di raccontarla nel libro spero di esserci riuscita cioè la regional basis era il criterio fondante di tutto il suo lavoro cioè ogni area degli Stati Uniti aveva un suo suono una sua personalità qualcosa che era esportabile al di fuori degli Stati Uniti e questo è fatto con Seattle quindi quando quando poi cioè si è trattato di fondare un'etichetta discografica questo principio è rimasto è rimasto quello e poi cosa ha fatto per esportare quei sound fuori dagli Stati Uniti ha chiamato questo giornalista del Melody Maker che si chiama Evertrue ovviamente era il suo nome d'arte vabbè l'ha foraggiato per mesi con birre cioè tipo metanfetamine eccetera eccetera e proprio perché girasse i locali della scena e recensisse tutte le band che suonavano e poi per il Melody Maker che era la Bibbia e questo ha funzionato perché poi Evertrue ha scritto anche una bellissima biografia di Cobain tra l'altro una delle poche scritte con lui in vita mi pare di ricordare e questo è alla base della nascita del grange cioè quando chiedi cos'è il grange il grange è un genere musicale etichettato per bene che è servito per esportare la scena regionale del nord ovest pacifico in Europa questo è ho risposto alla domanda no no guarda Valeria poi è anche un genere ci mancherebbe però non sono un amante di quelle band ma adoro molto la modalità e soprattutto quanto è significativo quella modalità che hanno usato per la sappop e per etichettare un genere tant'è che io sono uno di quelli che sentono dire a me non piace il grange mi viene un mal di cuore non perché secondo me il grange non esiste a proposito scusa quello di prima in bicicletta testa di cavallo mozzata fuori dalla porta datemi l'indirizzo che ci penso io Dario ma lui è la mia nemesi io non sopporto ad esempio chi dice cosa non mi piace cosa me ne frega a me di cosa non ti piace mica vengo qua a parlare di cosa non mi piace Mario ti adoro però lui è proprio della scena al cor e quello fa schifo e quell'altro fa cagare lo fa per tricherarci un po' lo fa anche un po' per tricherarci perché è verità uomo di grande passione il grange purtroppo ha delle fondamenta molto solide nella scena hardcore quindi bisognerebbe spiegarglielo questo non andiamo oltre potrebbe iniziare ad ascoltare i Nirvana io sono uno di quelli che ritiene i Nirvana come dato di fatto una band garage rock cioè nel senso io ci vedo proprio dai sonics vedo una roba che tutti odieranno dai sonics sia localmente che come approccio vedo proprio una direzione verso verso Nirvana tra l'altro poi ho due storie da chiederti riguardo ai Nirvana perché vorrei sapere se sono vere perché io non ho nessun disco di Nirvana a casa li apprezzo mi piacciono ovviamente come cosa però ho due cose da chiederti che mi sono sempre chiesto anzi non so se vogliamo chiederle adesso chiedi ah ok va bene anzi poi ce ne ho tre allora la prima cosa è questa allora prima cosa non so se lo sai connessione col punk rock raduno questo è il primo singolo dei pensi di vision ok gruppo queer di san francisco e nel loro primo singolo c'è una cover di smells like teen spirit che aveva appena uscito e l'hanno cambiata in smell like queer spirit ok era una cover con una cosa e loro erano molto preoccupati che gli facessero causa in verità c'è questa bellissima storia di john ginoli dei pensi di vision che riceve una chiamata da di notte da cart cubain e lascia un messaggio alla segretaria telefonica dove dice ragazzi è una figata è bellissima è più bella della nostra versione non vi preoccupate fate quello che volete con quella canzone e questo fa anche capire la passione di cart cubain eh sì e fa capire anche la sportività di cart cubain cioè il fatto che comunque non era sicuramente un menuso ecco non su questo e poi soprattutto sulla storia d'amore cart cubain e corney lover ho due cose da chiederti la prima se è vero che il loro primo appuntamento è stato un concerto dei no means no cosa che spiegherebbe ancora una volta la passione comunque di quelle persone ma soprattutto io vado spesso per lavoro in questo locale storico a Groningen in Olanda dove Nirvana hanno suonato diverse volte si chiama Vera è uno dei locali più storici europei dell'underground di sempre proprio un'istituzione e il gestore di questo locale è lì da tipo 40 anni ok e lui mi ha raccontato questa storia in cui Nirvana siccome erano spesso di casa lui ha assistito a questa telefonata in cui intercontinentale Kurt Cobain dal suo ufficio ok in cui me la raccontavo questa storia telefonava a Cartney Love con una telefonata internazionale e roba del genere a un certo punto era talmente imbarazzato e talmente impaurito che se ne va chiede al gestore della vera gli puoi chiedere te per piacere se mi puoi sposare e lui ha telefonato a Cartney Love e ha detto qua c'è Kurt la proposta di matrimonio tra i due è avvenuta io non ho mai capito se questa storia fosse vera e volevo chiederti se tu sapevi qualcosa di questa è un po' di gossip mi hanno sempre fatto ridere la narrativa che riguarda la copia è infinita quindi io non escluso che possa essere vero io ho letto una ventina di biografie di Kurt Cobain nessuna riporta questo episodio me lo raccontava con una tale passione diceva Cartney lui in realtà era fidanzato con un'altra lo sai vero c'è lui quando ha non è non è guarda 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 attenzione attenzione allora Kurt Cobain era fidanzato la fidanzata stigata di Kurt Cobain cioè perché Kurt Cobain ha avuto tre fidanzate in croce ok perché lui era uno che era per la coppia fissa ha avuto questa storica fidanzata che si chiamava adesso mi sfugge il nome mannaggia a me alla mia memoria comunque fondamentalmente ha foraggiato i primi suoi anni da artista ad Aberdeen e poi a Olimpia e dove si è trasferito mi verrà in mente mannaggia non mi ricordo il nome poi ha avuto Curly Love e nel mezzo c'è stata questa cantautrice di Chicago che si chiama Mary Lou Lord che era anche a parte essere molto ben inserita nella scena di Chicago ma diciamo che proprio è stata la fidanzata e la fidanzata in mezzo quella che ha avuto la sfortuna di capitare nel momento in cui Curly Love aveva deciso che voleva Cobain a tutti i costi e quando è che Curly Love ha deciso che voleva Cobain a tutti i costi quando è finita la sua precedente storia con il tizio delle Smashing Pumpkins mi ricordano mi ricordo cioè Curly Love si è messa in testa appunto che lei era innamoratissima di Cobain e ha fatto tanto ha fatto tanto ha brigato che insomma ha fatto in modo che loro due si lasciassero e l'ha fatto in modo molto inetto se vogliamo io non sono una diteratrice di Curly Love io l'apprezzo tantissimo sotto più punti di vista anch'io però sul fatto che lei sia stata una stronza beh insomma dai mi sembra abbastanza la palistiana alla cosa in qualche modo si sono trovati questa cosa che racconti questa cosa che racconti magari è vera però io non ne ho noti lui si chiama Robert ok è un'istituzione veramente è un personaggio molto famoso la ha ospitato tutti e quant'altro ma quindi che anno era scusami che anno era se suonavano ancora al Vera non dovevano essere non dovevano essere esplosi perché il Vera è un locale che massimo tiene 800 persone 700 persone nella sua più grossa capacità perché è uno di quei locali fantastici che cambia seconda quindi non ti saprei dire esattamente ma pre-esplosione interplanetaria perché in realtà c'è notoriamente la dichiarazione di Kurt quella diciamo plateale fu durante questo programma inglese programma televisivo inglese in cui disse volevo dire a tutti che la cantante delle Hall Karnilov is the best fuck in the world ricordo quello era diciamo notoriamente la dichiarazione d'amore che Cobain la richiesta di matrimonio questa è proprio stata la richiesta di matrimonio in cui loro erano lontani lui doveva chiamarla e cosa magari avevano litigato e roba del genere lui non riusciva perché probabilmente era timoroso di lei perché probabilmente era lei l'elemento forte immagino posso pensare e Robert ha fatto questa dichiarazione cioè lui la racconta e l'ha raccontata anche in giornali dove diceva io ho fatto la dichiarazione per condurre il telefono sarebbe molto bello per parlare di Karnilov c'è anche da dire che pochi lo sanno ma immagino che tutti siete fan delle Mavs il titolo dell'album su major delle Mavs Blonder & Blonder si riferisce è una cosa ironica verso Karnilov perché Karnilov era molto gelosa di Kim Shattuck e quando passava Kim Shattuck nelle cose era gelosa di chiunque quando passava Karnilov quando passava Kim Shattuck Karnilov è stata notoriamente la vista e l'ha guardata con aria di sfida un po' schifosa dicendo Blonder & Blonder nel senso che ogni volta che la vendeva era più bionda stupenda questa cosa Valeria è il prototipo di Riot Girl collaborativa insomma con le altre donne però aveva le sue qualità insomma c'è una domanda dalla chat che ti chiede di Jason Everman se il mitico Pietro dice che personaggio fantastico visto che io non l'ho conosciuto ma credo che neanche gli altri abbiano idea di che personaggio potesse essere tu hai avuto hai incontrato anche lui giusto? no Jason Everman non l'ho incontrato perché cioè nel senso è un personaggio misterioso e no non rientrava diciamo nelle mie persone da incontrare mi sarebbe piaciuto incontrare Jason Everman ma Jason Everman per un certo periodo non so se ne avete contesta ma si arruolò nell'esercito americano andò a combattere contro i talebani cioè Jason Everman è noto perché oltre ad essere stato il chitarrista provvisorio dei dei Nirvana nonché colui che finanziò esatto che cacciò il grano esatto 606 dollari per le sessioni di registrazione di Bleach fu anche appunto chitarrista provvisorio che suonò in alcuni live ma non suonò per le sessioni di studio del disco e che poi divenne per breve periodo anche il bassista dei Soundgarden cioè per poco tempo fu anche bassista dei Soundgarden e poi si arruolò nell'esercito e prese un'altra direzione mi sembra che Repubblica abbia intervistato Jason Everman una decina di anni fa cioè un articolo un'intervista molto bella ma la domanda qual era? scusa? di parlare di lui visto che appunto è un personaggio che comunque ha influenzato gli eventi anche se ma infatti ci sarebbe da scrivere un libro su Jason Everman mi sembra uno di quelli che io spero che non so se è rimasto di proprietà sua Bleach perché almeno insomma quando pensione ce lo potrebbe avere ma ho il tragico sospetto ma assolutamente no lui aveva i crediti nel disco perché Kurt dal profondo della sua bontà volle comunque annoverarlo tra il personale di studio ma in realtà lui non suonò lui fu quello che finanziò le sessioni però no Jason Everman non c'ha niente di niente proprio una crediti c'è un libro bisognerebbe scriverlo anche su Chad Channing che sulle prime foto dei Nirvana c'era sempre quelle smorfi le facce esilaranti lì mentre ti ricordi? il monociglio esatto batterista poi sostituito da 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 esatto sì anche loro anche i Nirvana hanno avuto un po' come ipergem diciamo la saga dei batteristi ne hanno cambiati cinque in tutto quindi insomma non pochi non pochi no Jason Everman è stata una meteora una meteora che però cioè è un po' come Matt Cameron che non ce l'ha fatta in qualche modo cioè quello che ha suonato con i Nirvana e con i Soundgarden cioè Matt Cameron ovviamente con i Soundgarden e con ipergem però poi insomma ha deciso di proprio di mollare il music business in tutto e per tutto anche se poi mi pare che abbia suonato in altre band insomma non è che ha smesso di suonare però ecco ha un percorso molto interessante invece c'è un'altra domanda sempre per te da parte di Arthur che chiede qual è l'artista più friendly e quello più ostico che hai intervistato per i tuoi libri eh questa questa è una bella domandona eh beh a dire il vero guarda di ostico non c'è stato proprio nessuno perché tieni conto che io cioè per tre libri ho intervistato veramente una vagonata di gente cioè nel senso qual è cioè il punto è che gli americani hanno tanti difetti però quando eh ti vedono specialmente insomma la gente della music business così quando ti vede veramente intervorata eh impallinata con una cosa che li riguarda cioè loro si mettono a tua disposizione eh cioè io ho intervistato praticamente tutta la sapop passata e presente nessuno cioè qualcuno ha detto di no cioè ovviamente cioè non è che tutti ti dicono sì qualcuno ti dice di no perché magari non ha voglia di rivangare certe cose perché magari qualcuno semplicemente la ritiene acqua passata o perché non hanno tempo non hanno voglia ehm alcuni sono morti cioè io avrei voluto intervistare Dana Giacchetto che poi vi spiego chi è Dana Giacchetto perché uno non può non conoscere Dana Giacchetto se vuole conoscere il grange e alcuni di loro non ci sono più quindi insomma a volte è anche difficile ricostruire le storie però devo dire che nessuno veramente nessuno è stato ostico ma proprio nessuno ma Dana Giacchetto no dai racconta dai spara subito un po' il personaggio perché perché poi il bello di allora lo dico pro promozione dei tuoi libri che io ho letto il bello di questi libri è che ti permettono di scoprire dei personaggi che oggettivamente non erano gli artisti le rock star cioè sì lo erano magari erano personaggi di secondo piano che però erano dei personaggi chiave personaggi chiave che hanno avuto a che fare diciamo che erano presenti nei momenti in cui cambiavano le cose cioè tipo Dylan Carson per esempio il musicista cioè Stoner leader dei Daily Earth è stato un grandissimo amico di Cobain ed è stato presente in tante situazioni difficili di Cobain e nessuno ne parla mai cioè hai capito c'è la narrativa ha dei tasselli mancanti comunque scusa torniamo rivedendo la puntata dell'altra volta voi giustamente facevate riferimento alle questioni contrattuali con la Warner e con la Geffen c'è la fusione con la Warner della Tappop e la questione Geffen allora sono due cose separate nel senso che l'affaire Geffen riguardava soltanto il passaggio dei Nirvana da Tappop alla Geffen la fusione con la Warner è un'altra questione completamente diversa che è arrivata nel momento in cui la Tappop nel 1994 95 ha deciso che voleva una struttura più grande cioè che voleva togliersi un po' da questo mare magnum delle etichette indipendenti voleva più fondi per andare avanti e allora a un certo punto Pavit e Poneman hanno detto ok cerchiamo un socio cerchiamo un socio non di maggioranza che ci possa dare un'iniezione di fondi e che però non ci faccia perdere l'indipendenza artistica e si presentarono a questa offerta tutta una serie di etichette major ma non soltanto etichette si presentò anche la Microsoft che come voi sapete è una grande potenza di Seattle e che in quel periodo stava cercando di rendere un pochino più smart la sua immagine perché era a testa di serie dell'informatica ma voleva anche entrare a del music business e non ce l'ha mai fatta insomma fondamentalmente quindi anche Bill Gates fece la sua offerta per entrare nella Tappop e questo è un evento di cui non si sa molto che non si conosce la Microsoft fu eliminata subito perché l'offerta era troppo bassa cioè Bill Gates braccino corto offrì una cintra viagognata voglio dire forse era quello che ne aveva più di tutti cioè oltretutto quindi esattamente magari allora voleva mettere i microchip nei dischi mi aspettavo questo tipo di commento ma comunque ragazzi scusate io adesso vado a fare un attimo una telefonata a Bill perché avrei l'ammonia da un attimo da sbolognare che anche se mi offre pochi quasi quasi perché adesso si sta separando e onestamente credo che staccherà diversi assegni perché c'è anche la Bill Gates Melinda Gates Foundation che è leader del filo da coce però nel senso sei aggiornatissimo su tutti cioè 360 gradi cioè incredibile cioè io nutro un amore per Seattle ancora prima che per tutto quello che se ne consegue allora ti chiedo questa cosa sai qual è la teoria cospirazionista ultimamente riguardo a Kurt Cobain e che lega anche un po' la Geffen da un certo punto di vista perché l'ho scoperto anche io recentemente perché ne ha parlato Rick Rubin e non avevo mai sentito di questa cosa perché c'è questa teoria folle per cui siccome adesso sai hanno fatto uscire due dischi i Weezer secondo cui siccome i Nirvana sono finiti esattamente qualche mese prima che esordissero i Weezer c'è questa teoria per cui Kurt Cobain è ancora vivo e in verità è reverse Cuomo sotto mentite spoglie ma questa cosa qui cioè si trova molto in giro cioè nel senso è come quelle cose che dici ma dai chi crede alla terra piatta cioè ci sono siti che riportano testimonianze prove e robe del genere e persino le varie persone di Weezer così hanno dovuto rispondere a questo tipo di interviste cioè per intenderci quanto ancora la mania riguardo a Kurt Cobain è ancora viva ma più che altro questa mania di non concepire il fatto che Cobain fondamentalmente abbia voluto porre fine alla sua vita cioè so che è difficile da accettare però le teorie ispirazioniste che a volte appunto sfociano nel folklore come questa e che magari sono anche rafforzate da voglio dire le indagini se non ci entreremo vi prego non fatemi entrare in questo ginefraio vi prego ma le indagini comunque sicuramente hanno avuto dei momenti un po' nebulosi però chi conosce bene Cobain o chi vuole conoscere bene Cobain sa perfettamente che lui fondamentalmente questa quest'idea del suicidio l'ha accompagnato per tutta la vita no? perché lui ha scritto testi poesie scarabocchi sul suicidio fin da quando aveva tipo otto anni ha visto un compagno di classe appeso nel cortile cioè ha avuto due zii che si sono sparati ha avuto tutta una serie di eventi nella sua famiglia che hanno voglio dire alimentato questo suo immaginario no? già di per sé molto horror se vogliamo quindi le teorie cospirazioniste secondo me derivano comunque dalla comprensibile mancanza di accettazione del fatto che lui avesse compiuto un gesto una specie di sacrificio no? certo che recentemente vai vai no 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 finisci pure finisci pure recentemente ho assistito una studentessa di una università di Napoli che appunto aveva una tesi sperimentale su Kirk Cobain sul fatto che lui non si fosse suicidato ma che avesse voluto compiere un estremo gesto di sacrificio un estremo sacrificio in virtù di tutta una serie di credenze che lui aveva cioè arrivo più ad accettare una cosa del genere no? cioè può anche essere ma alla fine cosa importa? cioè alla fine il punto è perché ancora vogliamo sapere? perché ancora ci mettiamo nella condizione di voler conoscere il perché e per come lui si è tolto la vita chi vuole continuare a credere che sia stato che cazzo ne so che sia stata Karnilov ad assoldare qualcuno per ucciderlo è libero di crederlo ma cioè è ben lontano dalla realtà se conosci Cobain una cosa scusa K voglio chiedere una cosa no sì più che altro che chiedono dalla chat se Valera sapesse qualcosa di più su una possibile collaborazione fra Stipe e Cobain cosa che mi farà brevidire perché sapete il mio grandissimo amore per i Rem quindi beh voglio dire cioè Cobain ha dichiarato più volte specie nelle interviste diciamo le ultime interviste che ha rilasciato di avere in Michael Stipe un modello di riferimento estremo e che se i Nirvana avessero continuato sicuramente avrebbero preso quella piega lì e Stipe ha rilasciato un'intervista recentemente in cui ancora si arrovella e si pente del fatto di non essere andato al memorial di Cobain e di non averlo incontrato quando era necessario perché Cobain voleva incontrare Michael Stipe e voleva avviare una collaborazione ma per qualche motivo Stipe non non lo fece quindi la risposta è sì nel senso che comunque lui voleva essere come Irem alla fine se fosse anche andato avanti da solista era quello diciamo il percorso che voleva seguire poi ricordiamoci sempre che Cobain era molto come posso dire era anche molto variabile nelle sue intenzioni non è che diceva una cosa era quella anzi molto spesso diceva una cosa e poi non era quella però sicuramente sul fatto che Stipe fosse nell'ultima parte della sua vita un faro quello sì quello è senz'altro vero ma perché dici che Cobain stava già iniziando a valutare una carriera solista dici? sì 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 questo non significava necessariamente lasciare Nirvana però c'è anche Cornella via un'attività solista come sapete ma senza mai lasciare Soundgarden cioè i Soundgarden si sono sciolti per un certo periodo cioè sono stati in stand by però la band non ha mai cessato di esistere quindi tutti loro bene o male cioè anche anche Jerry Cantrell ha fatto dei dischi solisti a prescindere dagli Alice in Chains però sì ha senso che ha senso che avrebbe fatto proseguito la strada di qualsiasi appassionato di rock and roll perché poi la verità è quella cioè nel senso non avrebbe continuato a fare dischi come li facevano in un determinato momento cioè già solo live acustico assolutamente da fan di quella musica è normale che avrebbe fatto cose un po' più melodiche magari avrebbe cambiato arrangiamenti avrebbe provato cose cioè nel senso è normale per gli appassionati perché qui e qui ti chiedo questa domanda non credi che ogni tanto i Nirvana e l'importanza dei Nirvana siano spesso da un certo tipo di pubblico considerati o sottoconsiderati proprio per il fatto che Kurt Cobain è diventato un'icona quasi alla Jim Morrison cioè io vedo tanto questa cosa con i Dors tante persone sottovalutano i Dors che sono un gruppo meraviglioso perché Jim Morrison si è elevato a questa specie di figura iconica da smemoranda e da citazionismo no? Kurt Cobain non ha avuto un po' quel tipo di cioè è diventato talmente iconico talmente importante per una generazione da essere diventato l'idolo delle ragazzine e quindi tante persone sottovalutano veramente l'importanza nel rock and roll e nel punk e nella scena indipendente dei Nirvana da un certo punto di vista quasi la schifono perché dicono quella roba lì è diversa da quello in cui crediamo noi Eh ma questo ha a che fare con due problemi allora tu hai fatto non a caso hai citato anche Jim Morrison che ha in comune con Cobain una cosa essenziale cioè il fatto di non essere più in vita fondamentalmente e tu sai che l'epica intorno a una band o a un personaggio quando il personaggio non è più in vita si amplifica a dismisura quindi è ovvio un po' che l'epica di Cobain abbia un po' preso il posto della narrativa sull'importanza che i Nirvana hanno avuto estrema nel mondo del rock indipendente e non anche del pop perché non scordiamoci che comunque Cobain sapeva perfettamente come fare un pezzo pop quindi sì la risposta è sì sono sottovalutati ma perché purtroppo l'epica del personaggio ha preso il sopravvento proprio per il discorso che facevamo prima perché comunque si è troppo impegnati a capire come si è ammazzato Cobain chi volesse il suo male piuttosto che magari analizzare alcuni diciamo spartiti o alcune canzoni o alcune poesie cioè l'eredità artistica di Cobain è spropositata cioè lui era un compositore era uno scultore era un artista pittorico cioè lui fondamentalmente era tante cose quante volte quante volte ne senti parlare e come pensi questa serie di che venga trattata non ho capito cioè scusami no no vai continua poi ti ho una domanda no poi di contro invece c'è una frangia di fan che invece è interessata soltanto a quel lato lì lato artistico cioè io conosco uno su facebook cioè c'è un tizio su facebook che va secondo me veramente oltre ad essere estremamente nerd è un personaggio un po' inquietante che però conosce alla perfezione tutte le chitarre tutte tutti i modelli di chitarra che Cobain ha utilizzato quando li ha utilizzati che distorsore usava che tipo di corde utilizzava da chi se le faceva fare cioè lui ha questa specialità e come lui ce ne sono tanti di quelli che si sono concentrati proprio sul lato del musicista e strumentale no dell'attività di Cobain ma cioè se tu mi parli di considerazione della band purtroppo sì ma questa è anche colpa della stampa posso dire ogni anniversario che Dio manda in terra cioè arriva lo speciale su capito Nevermind di cosa parliamo? cioè parliamo un attimo anche di come è stato concepito Nevermind un attimo e non soltanto del maledettismo di questa benedetta band Franz sai che nei primi anni di Roxando ci chiamavano la rivista della generazione Nirvana della generazione Kurt Cobain è giusto in maniera dispensativa con molti colleghi infatti io volevo fare magliette Roxando ho scritto sai un anno dopo come con Cristo mentre KC invece di JC capito? Quanta comprensione guarda no ma è vero è verissimo io vi ho fatto una domanda ma questa storia delle armi cioè a me ha sempre colpito questo fatto che Cobain fosse un collezionista di armi cioè che tu non lo immagini così cioè vedi il personaggio non pensi che sia uno che si mette a sparare I swear I don't have a gun voglio dire sì sì no lui non era un collezionista di armi a lui piacevano le armi ma perché cioè nel senso vorrei spiegarla bene questa cosa lui nella sua come posso dire mentalità come posso dire molto molto di sinistra cioè comunque lui aveva un approccio molto molto di sinistra nella sua nella sua attività e nella sua vita era a favore delle minoranze era molto come posso dire a favore delle questioni femminili ha frequentato per un sacco di tempo un gruppo di femministe punk che poi sono diventate le riot girl era cioè aveva questo tipo di inclinazione ma aveva anche questa passione per diciamo il corpo umano e per come il corpo umano potesse disintegrarsi no cioè come potesse smembrarsi e la passione per le armi era legata a questa a questa cosa qua cioè al fatto che un'arma potesse essere in grado di fondamentalmente rompere un corpo l'anatomia di un corpo e soprattutto negli ultimi tempi era diventato un po' un'arma di difesa perché lui si sentiva minacciato ma l'arma che acquistò l'arma che acquistò per per uccidersi che fondamentalmente non la comprò lui la comprò Dylan Carlson no cioè lui andò con Dylan Carlson in questa armeria di Seattle ad acquistare questo fucile che non era era un fucile e disse che se lo voleva tenere in casa per difesa personale no e secondo me lui già sapeva che l'avrebbe usata per un'altra cosa però ecco da qui a dire che era un collezionista d'armi no non era appassionato di armi non era appassionato di guerra non era appassionato di di questo io avevo avuto modo di di chiacchierare con Yuri Lonquette che è il fotografo che fece la famosa foto con la pistola e lui si è sempre pentito di quella foto cioè la odia non la tira più bravissimo fotografo lui chi scusa il fotografo si è pentito di averla fatta si si perché ha detto poi con tutto quello che è successo la vedo ovunque ogni volta si parla di Kurt Cobain che si parla del suicidio della scena grange viene fuori questa foto qua e vabbè questo te la racconta lunghissima su quanto la gente poi abbia letto i suoi scritti cioè nel senso quello era l'ultimo dei problemi cioè se tu ti preoccupi di una foto puoi leggere i suoi testi comunque i riferimenti al suicidio erano anche nei suoi diari i diari di Cobain traduzzi anche in italiano cioè tanta roba lì sì sì assolutamente c'è un'altra domanda dalla chat ci sono i momenti proprio pesanti che fai proprio fatica almeno io ho fatto fatica a leggerli eh ma perché non stiamo parlando di una persona equilatissima comunque ovvio c'era un caos in quella mente lì per essere in quella testa dovrei capito sapere a sviare i proiettili no perché cazzo c'è propa roba no fra l'altro c'è c'è un'altra domanda dalla chat che chiede la collaborazione con Burroughs io non so se ci sono delle cose che non sono state dette o qualcosa di particolare a riguardo tra carte e il nostro buon vecchio William ti stiamo perdendo Valeria mi sa perché vedo che si sta un po' inchiodando tutto non so se ecco è ritornata no assolutamente però io non vi sento vi vedo no c'è stato un momento di collegamento ballerino un altro problema cioè non va in questo momento non va c'è un momento di aspetta un attimo mi sa che proviamo proviamo vediamo William Burroughs non so voi non so voi ragazzi ecco ti io vi vedo vi vedo adesso vi sento qui si no sei tornato ok no non c'è nessun mistero nel senso che comunque ci circola anche una foto c'è una foto molto ingiallita che ritrae proprio Cobain e Burroughs in questo giardino mi pare che sia a casa sua che sia a casa di non mi ricordo di chi che casa era però c'è questa di William Burroughs di William Burroughs che lui era andato a trovarlo ma credo che addirittura sia un set fotografico non solo una foto ce ne sia più di una di loro insieme se non erro sì ce n'è più di una però vado a memoria ce n'è più di una ce n'è più di una sì allora non ci fu mai effettivamente una collaborazione però io ricordo che William Burroughs poi a un certo punto fu intervistato dopo la morte di Cobain e praticamente disse che lui aveva avuto questa impressione di Cobain adesso vorrei ricordarmi le parole esatte allora diceva che era un ragazzo molto timido che come si dice quando accartocci le sopracciglia quando fai che mi si dice c'è un termine che adesso non mi viene corrucciava che corrucciava corrucciava si corrucciava nell'espressione troppo spesso e troppo facilmente ecco questa cosa mi è rimasta impressa perché ha accolto nei tratti di personalità di Cobain questa cosa che lui si corrucciava troppo spesso è per nulla ecco troppo spesso è per nulla però a quanto so non fecero effettivamente ma viene pensi volesse fare comporre della musica su alcuni suoi sti ma non ne venne fuori nulla non fecero in tempo fondamentalmente e beh sì anche perché era questa la domanda no no voleva solo sapere di più ma Valeria hai accennato questa cosa e sono molto curioso tutto quello che è il post Nirvana il post Kurt Cobain e l'eredità che lascia mi saranno curiosi sapere la tua opinione di come questa eredità adesso viene trattata non tanto dal punto di vista di abbiamo approfondito diritti dei pezzi diritti degli album cosa ha fatto poi la Sappop eccetera eccetera però è evidente che adesso questa eredità è in gran parte dentro l'epica dei Foo Fighters di Dave Grohl cioè Dave Grohl è diventato questa specie di ambasciatore volente o non lente del rock o dell'underground o del do it yourself da un certo punto di vista e lo fa molto valere nei documentari nella narrativa dei Foo Fighters tant'è che io non sono fan dei Foo Fighters ma il loro documentario principale parla tantissimo ok della parentesi di Nirvana e ne parla anche secondo me in un modo molto interessante sappiamo che non so nel documentario Sound City c'è quella famosa reunion di Nirvana con Paul McCartney a fare la parte di Kurt Cobain cioè come vedi questo riesplorare esatto poi ho visto ultimamente che la figlia di Dave Grohl o qualcuno ha sempre cantato un pezzo insieme a Nirvana cioè c'è questa idea insomma del continuare a ricordare Kurt Cobain o forse utilizzarlo nella narrazione moderna di quelle cose tu come la vedi e cosa ne pensi cioè da fan è evidentemente una delle persone che ne conosci più al mondo perché mi sembra di poter dire che veramente non c'è nulla che ti sfugge adesso francamente Charles Arcross è meglio però no no basta studiare le cose non è che alla fine basta studiare davvero esatto è il problema che nessuno studia qualcuno qualcuno lo fa ma sai qua ci sono anche tanti discorsi da fare che non faremo però il punto è no secondo me Dave Grohl ha sempre avuto come del resto anche Novoselic devo dire nei confronti dell'estate dei Nirvana che appunto riguardano non soltanto la parte musicale ma tutto il resto tutta una serie di marchi che hanno a che fare con la grafica e proprio il brand Nirvana facilitarlo molto rispettoso cioè la tendenza che tu vedi nevelo rievocare e magari anche un po' approfittarne e giocare su io questa cosa non l'ho mai mai vista cioè ogni volta che viene rievocato in qualche modo Cobain lo si fa in termini di ricordiamo un amico che non c'è più semplicemente non ho mai visto da parte sua la volontà poi so che ci sono pareri contrastanti ci sono pareri contrastanti a parte che scusami cioè nel Grohl non mi sembra che abbia considerando il successo bastante di qualsiasi cosa faccia quell'uomo a prescindere dai Foo Fighters non mi sembra che abbia proprio bisogno di scavare nell'estate dei Nirvana per magari farci qualche dollaro in più e così Novoselic non frega fondamentalmente niente non ne frega niente da quando i Nirvana si sono sciolti nessuno ha cercato di capitalizzare questa cosa qual è il problema che l'estate dei Nirvana non è soltanto appannaggio di 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 c'è una grandissima un grandissimo consorzio un grandissimo gruppo di gente che lo gestisce tra cui vabbè la stessa Kernilov che essendo ormai andata di testa comunque non ha molta voce in capitolo e soprattutto sua figlia cioè la figlia la figlia di Cobain Frances Frances Cobain purtroppo lei adesso ha la quasi totalità dell'estate di suo padre sia per quanto riguarda la musica sia per quanto riguarda il material artistico sia per quanto riguarda il logo sia per quanto riguarda tutto quanto non so se avete seguito la vicenda di Mark Jacobs che è fece una eh stilata organizzò proprio un marchio di abbigliamento mirato proprio all'era grange eh Mark Jacobs un paio di anni fa tre anni fa eh fu mh redarguito dall'estate di Cobain perché aveva creato una linea di vestiti riproducendo il logo dello smile no? il logo dello smile che disegnò Cobain che era il famoso smile che disegnò Cobain che poi lì c'è anche una questione perché lo smile è comunque appanaggio delle seed house c'è tutta una serie di cose da dire però venne redarguito perché non poteva utilizzare quel logo e ci fu una causa cioè nel senso gli fecero causa alla fine perché Jacobs che già aveva fatto questo a suo tempo questa linea di abbigliamento adesso non lo può più fare quindi guai toccare quella roba lì però non è De Grohl che lo decide è l'intera banda di chi ha diciamo la proprietà intellettuale non di quel patrimonio e mi sembra che la stiano difendendo che abbastanza bene se vuoi essere sincera al di là di quello che poi è l'eredità proprio del lasciato dei diritti e roba del genere mi fa piacere che pensi così perché anch'io la vedo da esterno da non da mega fan come lo sta trattando Dave Grohl Novoseli comunque è molto rispettoso ma soprattutto rispetto a carne e l'ovo o rispetto a chi ha interessi mi sembra che queste persone qua ma parliamo anche di Mark Harman dei Madoni sono molto rispettosi della storia del rock and roll cioè quello che fanno lo fanno per dire non tanto sono il più figo ho fatto questo sono il più bravo oppure mi spetta questo ma lo fanno proprio per poi uno può concordare che Dave Grohl lo fai in un modo giusto sbagliato ti sta simpatico no ma lo fanno ancora da appassionati verso altri potenziali appassionati no nel senso quello che mi piace dei Foo Fighters che non mi piacciono assolutamente come band come suono anche tutto non so i Sonic Avenue andare da tutti le città americane fare la storia è bellissimo mamma mia bellissimo cavoli secondo me rispecchia molto anche quello che era poi Nirvana cioè una band rock and roll di appassionati di rock and roll che ancora credono in quella cosa perché poi stiamo qui sempre a parlare di diritti di quello là cioè Cartney Love non rispetta questo cioè diciamoci la verità nessuno di noi penserebbe mai che Cartney Love è un'icona di quello che piace fare a noi che sia hardcore punk garage cioè Dave Grohl non più ecco diciamo non più a suo modo lo è stata però non più però allora il fatto cioè il fatto di Grohl cioè Grohl forse sono in tanti a sottovalutare il fatto che Grohl oltre ad avere un talento immenso su più fronti perché appunto non per nulla si è dedicato anche ad altre attività tra cui il regista lo sceneggiatore eccetera e ogni cosa che fa gli riesce bene cioè questa purtroppo è una cosa ineluttabile però la storia di Grohl cioè rispecchia tantissimo questa cosa che tu dici perché cioè molti lo odiano per il fatto di essere stato quello che poi dopo Nirvana ha in qualche modo approfittato di quella sua posizione per avere magari delle porte aperte che magari non avrebbe avuto ma cioè l'ha fatto in modo del tutto secondo me autentico cioè lui le canzoni le scriveva anche quando stava con Nirvana cioè voglio dire è sempre stato un singer songwriter e un batterista con i controcoglioni solo che in una band come Nirvana non è che puoi alzarti e dire scusa io avrei una canzone te la posso far sentire anche Kurt faceva le palle a fette fondamentalmente no? e tutto questo lui è riuscito a farlo e Kurt sentiva le sue canzoni e diceva mmm bella bella però dovrei cambiare tutto no? quindi cioè non era facile ma lui è sempre stato quella roba lì semplicemente quando i Nirvana si sono sciolti ha trovato la sua strada e l'ha fatto senza necessariamente ispirarsi a Nirvana dal punto di vista dei suoni cioè anche il primo album forse era il più vicino a quella roba lì ma poi ha preso completamente un'altra strada ma se non va a dare scusa mi ti ho interrotto che nella prima formazione dei Foo Fighters c'era gente di Seattle e beh c'erano c'erano dei Real Estate c'era cioè voglio dire quella eredizione lui l'ha portata avanti per molto tempo c'era voglio dire Pat Smear che è uno fatto parte di una delle band hardcore più gloriosa della storia cioè non è proprio l'ultimo dei poppettari eh c'erano due Sanideri scusami sono convinto che se avesse cercato di capitalizzare dalla storia dei Nirvana non avrebbe mai fatto il successo che aveva cioè il primo disco di Foo Fighters l'ha registrato da solo dei Proll registrando tutto come si fa come fanno i ragazzini adesso da casa con Garage Band cioè è l'ultimo disco dei Nirvana e infatti in Sonic Highways in Sonic Highways c'è proprio una parte della puntata in cui lui torna in studio con l'ingegnere del suono di allora e tra noi che loro avevano inciso in studio insieme a Barrett Jones Barrett Jones che da non confondersi con Barrett Martin che invece era quello di Screaming Tree Barrett Jones il primo ingegnere del suono con cui Dave Grohl incise dei pezzi che poi confluirano nel primo album dei Foo Fighters e lui suonò tutto in quegli album in quel disco poi ovviamente per andare in tour doveva avere una band quindi si ritrovò a dover raccrocchiare un po' all'ultimo momento con due Sunny Day real estate come musicisti tra l'altro e tra l'altro oggi quando si parla di Dave Grohl cioè il riferimento ai Nirvana è sempre meno presente si parla molto di Foo Fighters poi ovviamente viene sempre fuori qualcuno che può citare qualcosa però lui ormai è la domanda come hai vissuto la morte di Cobain come fa parte della narrativa c'è Pietro ti fa una domanda molto interessante perché ti chiede cosa pensi che abbia portato sul panorama italiano il Nirvana e tutto il carrozzone di quel tipo lì sia estetico che musicale vabbè l'estetico non so se abbia pesato così tanto sicuramente a livello musicale sì almeno secondo me beh quello che ha portato il nirvanismo si concentra un po' nella fase temporale di cui parlavamo prima quando parlavamo del muro voglio dire di band che si ispiravano ai Nirvana i Verdena sicuramente sono da annoverare anche se loro stessi poi alla fine giustamente a una mia domanda risposero e che due coglioni però tutti ci accomunano ai Nirvana ma era oggettivamente vero però il punto è che loro contrariamente a molte altre band si ispiravano anche a gente come i Melvins facevano dei nomi che nessuno in quel periodo faceva quindi ecco innanzitutto loro e poi vabbè comunque tutta una serie di band che facevano parte un po' del panorama indipendente della metà anni 90 in qualche modo si ispiravano a loro ma non più di tanto ecco in Italia ha portato veramente poco sta continuando a portare veramente poco c'erano molto più ispirazioni al grunge che non hai Nirvana veri e propria sì no a un certo modo di suonare le chitarre di distorcere le chitarre con quella accordatura magari un po' più bassa ecco io sono una batterista mancata e fallita non una chitarrista quindi scusatevi non riesco a parlare di chitarre in modo molto competente ma in realtà poi non è che è uscito tanto in Italia che abbia perlomeno avuto successo forse i timoria in un certo senso ma vabbè poi i karma i karma beh i karma senz'altro però i karma però sono gruppi che non sono durati e che non hanno avuto successo i karma cioè ce li ricordiamo noi ma con tutto il bene che voglio questo rischio della parodia involontaria no cioè i karma si ispiravano cioè erano sicuramente quella roba lì però non so se avete avuto anche voi questa sensazione sempre cioè certe sonorità riprodotte in Italia sembrano sempre un po' lo spoof dell'originale e noi siamo stati capaci di cose migliori e noi siamo stati capaci veramente di cose migliori oltre a quelle robe lì non aveva secondo me la verità è che non avevamo bisogno in quel periodo di 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 perché eravamo già bravi noi con l'emulazione quindi cioè alla fine dentro c'era davvero poco e quando dentro c'è poco non rimani purtroppo è qual è la verità certo il problema il problema di Italia tutta emulazione e poca roba poca ciccia e di quella roba ne è rimasta poca mi piace ricordare che anche le band americane che hanno emulato diciamo nella fase del post mirvanesimo che poi hanno emulato quel sound non hanno avuto c'è proprio una una carriera folgorante forse forse ancora ancora i candle box ma cioè a me solo nominare candle box mi viene mi copro di bolle non sentivo nominare non sentivo nominare i candle box da forse il 97 ci sarà un motivo ci sarà un motivo i Bush sono sopravvissuti si ha voglia ma se no perché il tipo era fregno mica per altro perché era spazzato il merito di queste fali il merito di queste fali diciamo la verità detto giusto Vale era molto fregno era molto fregno parlo al passato perché non è vecchiato benissimo contrariamente ad altri però si era molto fregno lui eh ma poi io ho lavorato MTV proprio in quel periodo in cui c'erano queste band post grunge che cominciavano a salire in classifica e poi cominciavano a fare dei video della Madonna cioè ha aiutato molto quella fase lì eh ha aiutato veramente tanto essere usciti cioè con un tempismo abbastanza buono per quel mercato lì buono è una tendenza comunque molto europea ma poi poi dovremmo parlare anche di singles nel momento in cui tu copi una determinato suono cosa hai già fallito cioè nel senso nel momento in cui ma in tutti i generi tu dici voglio fare un gruppo grangio voglio fare un gruppo pop punk alla look out hai già fallito perché tanto franzo togli l'essenza di quella cosa infatti citiamo i Verdena i Verdena quanto ci hanno messo a togliersi di dosso quel vestito che tutti gli davano di giovani Kat Kubain e Nirvana Bergamaschi poi hanno fatto una serie di dischi adesso non ce l'hanno più quella cosa però comunque nel momento vai vai no no cioè di band che dicevano di ispirarti a Nirvana non suonando come Nirvana in realtà ce n'erano tanti cioè anche Jennifer Gentle per dire no e li cito non a caso perché sono una delle due band italiane che sono state sotto contratto con la top pop cioè Jennifer Gentle si ispiravano a Nirvana ma non è che suonassero come Nirvana sicuramente neanche andandoci vicino c'era qualcuno che magari prendeva qualche componente qualche elemento del sound di Nirvana o del loro modo di scrivere e lo esplodeva però nella globalità nessuno era mai stato paratiché posso dire una cosa una band che suona come Nirvana cioè per quello che voglia dire suonare come Nirvana esiste adesso si chiama Shame da non confondere con gli Shame invece post punk quelli quegli inglesi gli Shame sono una band italiana prodotta tra l'altro da Tad Doyle dei Tad e ti sembra di sentire in Nirvana non in botta cioè loro hanno ricalcato con pezzi propri autentici loro cioè non cover quel suono lì e ti sembra cioè non dico di sentire loro voglio dire però ricalcano molto quella roba e di band vicina a quel sound paradossalmente cioè ce n'è adesso ci sono loro prodotti da Tad Doyle quindi io non so cosa ha pensato Tad Doyle quando ha sentito i loro demo dice cos'è sta roba qua facciamola subito cioè e loro sono proprio sinessere proprio capito molto settoriali molto settoriali Valeria non so voglio chiedere a te io sento tantissimo del post Nirvana in quello che è stato il breakthrough del punk rock degli anni del 95 cioè i primi singoli delle band che hanno fatto successo devono tantissimo a quel soft hard che aveva che avevano i Nirvana ti faccio tre esempi Offspring i primi due singoli degli Offspring avevano tanto 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 di quella formula Soprattutto gli attanti soprattutto gli attanti diciamo che erano molto a quella di suonare la guitarra lì sì decisamente ma anche gli stessi Weezer cioè non è un caso non è un caso di quella conspiracy theory cioè i primi due album dei Weezer sono molto molto influenzati da tutta quel da quella cosa cioè il primo singolo Senso che ascoltato adesso non sembra neanche un pezzo dei Weezer cioè ha tanto di quel tipo di formula assolutamente sì assolutamente concordo e Weezer non hanno mai dichiarato di ispirarsi a Nirvana per quanto ne so o forse sì assolutamente sì sì capito a volte è proprio cioè il tuo modo di suonare non è che proprio si basa su un'ispirazione volontaria è che tu magari sei cresciuto ascoltando quella roba lì e ti viene da suonare perché poi Weezer cioè tutto li definirei tranne che una band post-grange assolutamente ha fatto però sì sì l'ispirazione è molto presente soprattutto nel suo loro secondo disco Pinkerton River's Cuomo lo cita spessissimo come cioè non è un caso la cospira si la cospira si e per quello che secondo me ridurre quei gruppi ma lo dico anche di Madonna e dei Melvins prima citavi Jennifer Gentle lavorano con con mio fratello che è un produttore e conosco ovviamente Nirvana o non i Nirvana scusatemi Nirvana Bergamaschi ovvero i Verdena sono tutte persone ok che non si ispiravano a un gruppo e abbiamo detto facciamo il gruppo di quel genere sono dei mega appassionati di musica cioè i Verdena ascoltano tutto il giorno Neil Young ascoltano tutto il giorno i Melvins i Motor Psycho i MGMT cioè e prendono tutta questa cosa sono l'esterno che li paragona al dire e piace molto stereotipare e qua devo dire i media fanno un brutto lavoro perché i media perché non studiano perché non sono appassionati o gli stessi persone che cosa dicono questa roba non mi piace perché è grange no aspetta un attimo cioè nel senso ma infatti sai rivedevo la puntata della volta scorsa in cui avevate tirato in ballo la sub pop e anche questa questa specie di classismo che abbiamo da tempo in memore per cui se tu sei affezionato a un ramo musicale o un genere automaticamente se ne ascolti altri sei un traditore no e questa cosa secondo me è sempre stata la base proprio del cioè del modo sbagliato di parlare di musica no anche questo fatto di credere che un punk non potesse aspirare ad avere successo era una cosa cioè nel senso che è vissuta tantissimo nella vita di Cobain cioè Cobain ha patito questa cosa più di altri secondo me la dicotomia tra il fatto di avere una street cred fin dagli esordi e di averla persa probabilmente nella sua nella sua mente no cioè facendo comunque dei dischi che hanno venduto paccate di copie con delle major cioè lui questo conflitto interiore l'ha vissuto e ci ha patito più di altri e secondo me alla fine c'è pure morto per questo cioè faceva parte dei grandi delle grandi questioni che lo attanagliavano di più cioè la dicotomia tra l'essere punk e essere ricco ecco questa è una cosa che purtroppo non ci toglieremo mai di dosso e così il fatto di ascoltare un genere e volerne ascoltare altri cioè Cobain era onnivoro dal punto di vista musicale è vero che magari il suo punto di riferimento erano i Sony Cute o i Vaseline o che cavolo ne so un sacco di band hardcore piuttosto che gli Abba cioè aveva tutta una serie di punti di riferimento non erano soltanto gente con la chitarra distorta c'erano anche pop band i Beatles cioè vogliamo parlare dell'amore di Cobain per i Beatles certo quindi cioè lui stesso aveva era molto ferrato anche su quelle le novità insomma che uscivano Valeria visto che ormai ci propinquiamo verso la fine perché come al solito abbiamo sforato sulle nostre e non abbiamo parlato della SAPPOF pensa siamo riusciti a non parlare della SAPPOF è fantastico purtroppo ecco sì esattamente quindi allora te lo dico subito ti rinviterei o al mercoledì o un altro sabato per parlare perché qui si parla di tutti gli argomenti perché poi è anche difficile delimitare in un in una in un'ora e mezzo in due talmente tanta roba scusate alla fine non vi ho detto chi è Dana Giacchetto e onestamente questa cosa mi dispiace proprio per chiudere in realtà ho un'altra domanda anche su Seattle ma direi che la lasciamo per un'altra volta no quando volete io mi sono divertita tantissimo fosse sempre così no ma dici chi è Dana Giacchetto dai in breve faccio un teaser per la prossima volta Dana Giacchetto era un musicista punk che poi si trasformò in consulente finanziario che cercò di far fare il salto alle etichette indipendenti nel grande mondo della borsa americana cioè di capitalizzare di far capitalizzare diciamo il business della discografia indipendente e purtroppo mise le mani anche sulla Sappop e mise le mani anche su tutta un'altra serie di etichette e di ahimè DVD Hollywood puntini 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 dai almeno uno spunto c'è qualche tempo ha fatto bene teaser teaser per la prossima perché ne vogliamo due volte vogliamo la Sappop in una fase fondamentale della Sappop cioè il passaggio alla Warner cioè l'entrata nella Warner bello 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 così così invitiamo la gente a rivedere e poi seguirci dal vivo e ci deve due puntate una sulla Sappop e sulla continuazione di questa storia e una io voglio una puntata intera sul muro e sulle televisioni di quegli anni lì perché quello sono due discorsi che mi appassionano cioè dobbiamo fare proprio una puntata su quella così parliamo anche di Fabio Caressa e di tutte quelle cose eh io non ci sarò quel giorno lì stessa io avrò un impegno inderogabile quel giorno io vorrei chiudere proprio con una domanda velocissima visto che il tuo ultimo libro è proprio a parla di Seattle della città noi l'abbiamo recensito su Pogozin un po' di tempo fa aspetta che facciamo vedere anche questo un minimo di marchetta anch'io dai eh no ma ci mancherebbe dopo due ore con noi direi che che altro che potresti anzi invito tutti nella chat a comprarlo mi raccomando e insieme a tutti gli altri libri già che ci siete e anche oltre Mirvana cioè questo è veramente un libro molto bello se posso dire compro tutto io compro tutto cioè dopo questo incontro ciao sono flashato anche perché in realtà non l'ho scritto io cioè io ho soltanto messo insieme le voci ma il merito è tutto loro cioè di questi due qua e vabbè però qualcuno doveva farlo e tu hai deciso di farlo eh sì riallacciandomi al discorso di Bill Gates e il suo tentativo di entrare nel mondo della musica che mi ha sconvolto ti è piaciuta ti è piaciuta lo so assolutamente però ecco quanto pensi che abbia pesato la città industriale il porto o comunque il fatto di una Seattle che non era al centro della cultura eppure ne ha fatto un percorso soprattutto nella musica perché tantissimi artisti parliamo di Hendrix ma poi vabbè con l'esplosione del Grange si è si è identificato con Seattle proprio tutto il sistema Grange no? cioè secondo te il fatto che ci fosse un'industria così sviluppata che poi ha dato appunto la Microsoft Starbucks nel libro ne parli molto è pesato tantissimo nel caso della su pop o no? cioè nel caso del fatto delle band che ci fosse un po' diciamo io ho sempre dato al mondo del Grange di Seattle un po' di disperazione non so come dire cioè il fatto di vivere in un posto un po' per dove un posto non vivo non so come dire esattamente ma nel caso di un'etichetta cioè il fatto che loro abbiano iniziato con la fanzine abbiano fatto tutte queste cose qua secondo te è frutto di Seattle o semplicemente una coincidenza? è frutto della marcata tendenza al do it yourself con cui sono nate tutte le grandi imprese di Seattle cioè Amazon che ricordiamolo certo Amazon nasce a Seattle a volte ce ne dimentichiamo sì sì assolutamente cioè la Sapop Microsoft Amazon Starbucks cioè poi sono diventate degli imperi a loro modo ma sono partiti tutti da una cioè da cosa posso dire dalla mentalità del do it yourself e della start up ok il concetto di start up in quella parte degli Stati Uniti nord ovest pacifico era molto accentuata fin dagli anni in cui noi start up non sapevamo neanche cosa volesse dire cioè la start up tecnologica Seattle ha cominciato a esistere alla fine degli anni 80 quindi erano start up che partivano comunque con il concetto che tu dovevi farti le cose da solo distribuire da solo farle conoscere con i tuoi mezzi eccetera e poi ci sono state le acquisizioni quindi la risposta alla tua domanda è che l'elemento in comune tra la Sapop e Seattle è la spiccata tendenza alle start up cioè il fatto di inventarsi le cose e di farle prima degli altri ed è una cosa che può nascere solo in una città in cui francamente non c'è niente da fare perché Seattle è notoriamente in uno stato degli Stati Uniti fatto di industria del legno cioè il mito legato ai TAD e al taglialegna no? cioè lui era figurato in copertina con la motosega cioè Seattle era quella roba lì cioè era la città dell'Italia legna come lo era Aberdeen come lo era Montesano c'è i Melvins erano quella roba lì quindi ecco buia fiovosa depressiva al nord pesante e beh sì la disperazione è quello che dicevo appunto nessuno ma neanche i tour i tour non si fermavano cioè i tour arrivavano a Portland poi tornavai indietro sì eh devi tanto andare su pochissima gente suona la Seattle solo se vai a Vancouver o torni da Vancouver vai a Seattle le Zeppelin suonarono a Seattle le Zeppelin suonarono a Seattle le 77 i Divo nel 1980 poi ci furono i Ramones che fecero questo che abbiamo citato un hotel nella sala la cerimonia di un hotel quello vabbè quello era c'erano anche i musicisti che partivano da Seattle per cercare Fortuna Altrove tipo Nicky Six dei Motley Crue era di Seattle Daphne Kagan era di Seattle lui è l'unico che l'ha trovata poi tra l'altro è l'unico che l'ha trovata è sempre bello vedere le band che vengono da quella zona soprattutto Portland e Seattle visto che sei un po' isolato come la comunità si è rimasta ancora solida perché ho girato con tante band di Seattle ho conosciuto i vari Briefs i Cutleppers gli Head tutti loro sono stati dentro comunque quella scena e loro non la chiamano neanche Grange cioè loro dicono era la nostra scena indipendente poi alcune cose sono state etichettate Grange alcune enorme ma loro si ricordano di concerti dei vari attori della questione e sapevano tutto di questa cosa cioè è proprio veramente uno di quei casi in cui una scena indipendente quasi locale come poteva essere Brescia Bergamo e quant'altro poi esplosa mondialmente perché stiamo parlando veramente di una città Brescia Bergamo Antul Antul per eccellenza tant'è che mi viene sempre da dire cazzo qua in Italia neanche spagassi un giornalista di rumore a venire qua per una settimana a documentare la scena di Bergamo e gli offrissi tequila metanfetamina parlerebbero comunque male delle nostre scene locali no? e questo fa capire cosa hanno gli americani meglio rispetto che a noi beh gli americani si sapevano vendere meglio di noi è un dato di fatto no all'epoca bisognava che qualcuno cioè che un giornalista non lo so del cos'era l'antagonista del Melody Maker che cos'era aspetta aspetta Enemy Enemy ok sì che antagonista però comunque un giornalista di Enemy che andasse non so a Catania a raccontare la scena indie di Catania e poi la esportasse nel Regno Unito cioè perché no voglio dire e alla fine è tutta una questione di promozione cioè una questione di marketing anche alla fine di costruzione del prodotto alla fine che è brutto da dire no? ma nel senso quante band sono poi esplose perché avevano la possibilità e gli occhi addosso nel senso si Nirvana sono un esempio a voglia ma noi stiamo parlandone ancora a distanza di più di 30 anni perché è stato così altrimenti non sarebbe stato così cioè non non sarebbe uscita dai confini del nord ovest specifico quella musica lì bene allora dunque ragazzi io con una mega un mega commento di Pietro che adesso vado a recuperare che se ci riesco perché ovviamente mi si è inchiodato tutto eccolo qui che sintetizza tutto cioè Twin Peaks più il punk uguale Grange con questo Pietro a stravinto secondo me anche l'avevo notato beh scusate per ora Grey's Anatomy che cazzo cioè Grey's Anatomy più punk cioè il più grande successo diciamo che dal punto di vista televisivo che Seattle abbia perso e poi parleremo anche però di singles la prossima volta eh sì qui bisogna fare troppo dobbiamo fare puntate antologiche puntate antologiche eh sì va bene ragazzi io allora innanzitutto ringrazio Valeria che per ben due ore si è sorvita a noi le domande grazie a voi eccezionale è stato un piacere la aspettiamo per le prossime puntate per approfondire altri argomenti che di oggi ovviamente parleremo anche della Tappop magari ma chi lo sa magari a questo punto faremo una puntata con te e Bruce perché prima o poi tornerà anche lui in diretta a proposito ragazzi se avete dei soldi da buttare via per il volo aereo io li prendo eh cioè siamo ancora qua che cerchiamo di capire come fare ragazzi ho ricato i libri di Valeria su Amazon eh fate buon shopping non ho capito esatto prendete i suoi libri sono tanti ne ha scritti parecchi anche uno su Andywood che non abbiamo citato questo non è su Amazon voi vi mando i link vabbè mettili in chat che la gente la vedo bella carica va bene noi ci rivediamo mercoledì con un'altra puntata serale e ovviamente settimana prossima con la solita colazione ringrazio tutti vi annuncio che a breve uscirà il nuovo numero di Pogo quindi forse già mercoledì ma non si sa perché stiamo aspettando le domande anzi le risposte le domande le abbiamo già fatte a chi intervisteremo e saluti alla chat che anche come sempre sta diventando sempre più frizzante e più viva e niente buon weekend a tutti e grazie mille a Valeria grazie a voi a tutti grazie mille siete fantastici ciao ciao